e ti piace andare a scuola ma certo che sì oggi devi fare le prove di grammatica anzi no le prove di matematica ok mi raccomando cerca di capire bene le domande leggile anche la maestra perché quelle sono le prove di matematica e sei curioso della grammatica così il libro di grammatica mi raccomando non sbagliare nulla ok sì sì vai c'è il tuo pulmino ciao dimmi quando è andata ciao come fa bene oggi ci sono delle prove di grammatica oggi dobbiamo farle nuvola quanto fa due più quattro sei ok e quanto fa due per due io la so maestro si get 4 ok sì ok allora come vedete abbiamo finito delle prove invarse vi ringrazio molto per aver letto benissimo e per aver detto benissimo le prove di anzi no le prove di matematica quindi ci vediamo domani a scuola ciao ciao com'è andata benissimo hai letto bene tutte le domande sì ti sei presentato alle prove di matematica sì allora torniamo a casa ti è piaciuto fare le prove invarse ti è piaciuto fare delle prove invarse sì mi è piaciuto un sacco sì un sacco di più ti è piaciuto lo so bravo che sei stato per oggi ti meriti una bella sorpresa siccome hai fatto delle prove invarse sto per arrivare ciao mamma ciao oggi la mia cara nuvola ha fatto delle prove invarse ed è stata brava brava che sei stata e grazie come mi dai a me un pezzo di cioccolato ma certo che sì ehi ma guarda io non ho appena mai mangiato neanche una mela vabbè ehi ma di tutto quanto potresti dire vabbè oh nuvola non cambierai mai